Oroscopo del giorno, martedì 7 febbraio 2023 Ariete Amore I legami potrebbero diventare molto più forti, ma non solo per le relazioni d'amore, anche per chi è single e vuole conoscere qualcuno. Anche per le amicizie o per i rapporti di famiglia varrà la stessa cosa. Lavoro Nonostante i tanti impegni di lavoro, dare il massimo non sarà per niente facile, vi mancherà qualcosa. Toro Amore Per questo martedì le emozioni non mancheranno, e sarà una buona notizia per chi ha voglia di viverle tutte, non solo a livello di coppia. Chi è solo potrebbe essere il più fortunato, un rapporto potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante. Lavoro Tutto dovrebbe andare bene durante questa nuova giornata del mese, impegnatevi con i vostri compiti. Gemelli Amore Potrebbe essere un giorno abbastanza negativo, nonché difficile in amore, per via di una posizione di venere sfavorevole. Questo potrebbe portare a qualche piccola discussione nel rapporto d'amore o di nuova conoscenza. Lavoro Inizia ad avvicinarsi un buon momento per il lavoro. Questa comunque non sarà una giornata troppo male. Cancro Amore Avrete a che fare con un martedì di febbraio piuttosto tranquillo, seppur senza grandi movimenti sul fronte sentimentale. Una giornata che potrete vivere con il partner o con un incontro nuovo se siete soli. Lavoro Sul posto di lavoro potrebbe arrivare qualche complicazione. Giove sarà sfavorevole. Leone Amore Per questa giornata potrebbe esserci un po' di frenesia in più in ogni parte, sentimenti compresi. Vodetevi questo martedì che potrebbe portarvi qualche emozione. Lavoro Le energie saranno molto buone. Avrete dalla vostra parte sia Giove che Marte, che potrebbero portare anche dei colpi di fortuna. Vergine Amore Potrebbero esserci delle discussioni con il vostro partner e non sarà facile trovare una soluzione con lui o lei. Anche perché single non mancherà qualche problemino. Lavoro Marte sarà in posizione sfavorevole. Le energie saranno molto basse e non vi aiuteranno affatto. Bilancia Amore La posizione di Venere per questo martedì del mese sarà abbastanza buona. Tutto dovrebbe proseguire in modo tranquillo e sereno, nelle relazioni o nelle nuove conoscenze di chi è ancora single. Lavoro Male al lavoro, dove avrete delle stelle piuttosto sfavorevoli, che non vi porteranno verso le vostre ambizioni. Scorpione Amore Questa nuova giornata del mese sarà molto buona per le emozioni e per i sentimenti. Vista la buona posizione di Venere, potrebbe esserci una nuova conoscenza per i single e qualche passo in avanti per chi è in coppia. Lavoro Sul posto di lavoro non sarete troppo fortunati, almeno per quest'oggi. Sagittario Amore La posizione del pianeta dell'amore non sarà buona, ma sfavorevole. Un momento difficile per chi ha intenzione di affrontare degli argomenti un po' più importanti con la persona che si è accanto. Lavoro Marte sarà in opposizione durante questo martedì. La stanchezza si farà sentire abbastanza e lo stress idem. Capricorno Amore Le emozioni quest'oggi sicuramente non mancheranno, vista la buona posizione di Venere per voi. Ci potrebbe essere anche un bel po' di fortuna all'interno dei rapporti. I single potrebbero fare incontri nuovi. Lavoro La congiunzione di Mercurio vi sarà d'aiuto durante questo martedì di febbraio. Le occasioni professionali e i risultati potrebbero pure sorprendervi. Acquario Amore Per i sentimenti non sarà una giornata troppo interessante e troppo ricca di buoni sentimenti. Potrebbe esserci qualche imprevisto o qualche piccola tensione. Per i miglioramenti bisognerà attendere un po'. Lavoro Buona la posizione di Giove di oggi, ma Mercurio non sarà ancora così favorevole. Per le vere novità professionali dovrete aspettare. Pesci Amore Sarà proprio una giornata molto piacevole per le coppie, eppure per i single. Un martedì in cui Venere metterà i rapporti e i sentimenti al centro del vostro mondo. Volere di queste emozioni sarà semplice. Lavoro Marte non porterà grosse energie da poter sfruttare. Non significa che non arriveranno risultati o gratificazioni. Se il video ti è piaciuto metti mi piace. Seguimi anche su Telegram per le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Per i miglioramenti